Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1. Per operazioni di ripristino incidente restano 5 km di coda stabili tra Val di Chiana e Fabro verso Roma. Per lunghe percorrenze da Firenze verso Roma si consiglia di uscire a Val di Chiana, seguire le indicazioni per Perugia, percorrere la E45 verso Orte e rientrare in A1 al casello di Orte. Per lo stesso incidente rallentamenti sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. Sempre in A1 rallentamenti tra BV1-11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandici verso Roma, coda in uscita a Firenze-Scandici provenendo da Bologna e coda a tratti tra Calenzano e BV1 variante in direzione Nord. In A11 coda a tratti per traffico tra Pistoia e BV1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, tutto verso Firenze. In A12 un chilometro di coda a tratti per lavori verso Nord tra Pivi A12 della Mazzone-Rivorno e Pisa-Centro. In Fipilic due chilometri di coda per lavori tra Staminiato ed Empoli-Est e coda a tratti tra La Strassigna e Firenze-Scandici per traffico intenso, il tutto verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.